Mi hanno raccontato questo l'anno scorso perché io non ho saputo che avevo il record nel Coppa del Mondo della velocità con 158, ma ok, se lo ho, volentieri. Io ho paura in macchina, 158 km orari. Grazie a Marco Girardelli che davvero ci piacerebbe in futuro avere di nuovo negli studi di Spornostop. Facciamo così, la prossima volta che vieni da Michela a mangiare un risotto. Ti chiamo prima, andiamo insieme. Durante il prossimo servizio ti lascio il mio numero di telefono. Signore e signori, un uomo di parola perché a quattro anni di distanza, Marco Girardelli è ancora in nostra compagnia. Buon pomeriggio Marco e grazie per aver mantenuto la parola e aver mantenuto fede alla tua promessa. Davvero un piacere. Spero che non è l'ultima volta che sono qui. Fantastico, abbiamo già siglato un accordo per un prossimo incontro, bellissimo, però io mi sa che devo iniziare con una brutta notizia per te. Perché a quell'epoca il record di velocità in una gara di Coppa del Mondo di sci alpina era di Marco Girardelli. Poi è arrivato il signor Clare a Wengen e da 158 ha portato il limite a 161,6 km. Devo iniziare da nuovo. Allora, guarda la camera, dai questo annuncio, Marco Girardelli torna in Coppa del Mondo. Questo era un barzelletto, come si dice in italiano. Un barzelletto, però sarebbe affascinante. Nel mondo dello sport ci sono continui rientri clamorosi. Marco Girardelli è ancora giovane, impensabile. Siamo 52 anni, non penso più, forse con i seniori, con i master. Però in un certo senso sei tornato alle competizioni, perché lo vedete qui fresco, riposato, appena finito di fare qualcosa come mille metri di dislivello perché si sta preparando, possiamo dirlo? Sì, certo. Alla patrouille des glaciers e non è proprio la gara più semplice e riposante del mondo. Sì, questo era più o meno per caso, perché amici miei di Lussemburgo mi hanno chiesto di fare la patrouille con loro. Prima per ricevere un posto, perché è abbastanza difficile ricevere un posto per un team. E secondo, per me altrimenti non mi alleno. Ho bisogno sempre di un obiettivo. Uno stimolo. Un stimolo. Senza stimolo non mi alleno abbastanza, perciò mi sento abbastanza bene in un momento. Ma per uno che ha passato la sua carriera a scendere, a fare sci, alpinismo, quindi vuol dire salire, scendere. No, almeno contro i miei amici lussemburghesi, loro sono sicuramente più veloci su, ma scendere tengo il tempo. Non sono particolarmente gentile, perché come primo dato della nostra chiacchierata ho dovuto ricordarti che non sei più il detentore del record di velocità. La prima foto che vado a mostrarti invece ti mostra qualcuno che è molto molto vicino a raggiungere le cinque coppe del mondo, esattamente come Mark Girardelli. E lui di fila. Ma sai, questa è una cosa normale nel sport. Record sono qui per essere battuto. E io sono molto felice che Mark Girard la farà quest'anno, quest'inverno. Farà il weekend prossimo. Sarà deciso. Secondo me è un campione molto grosso. Cinque anni in serie è incredibile vincere la Coppa del mondo. E veramente, ho preso il cappello di lui. Irsher-Christoffersen sarà il duello che ci farà rivivere, non so, per esempio, le sfide Girardelli-Zurbrigen? Non proprio. Christoffersen ha solo il slalom. In gigante ogni tanto arriva in podio, primi cinque non era così forte. In Zuppa G non ha mai fatto un risultato, neanche nella Libra. Secondo me Marcell era un po' fortunato che Swindoll sia fatto male a Kizbühel un paio di settimane fa. E perciò è diventato abbastanza facile vincere la quinta Coppa. Allora, i record sono fatti per essere battuti, però l'orgoglio di Mark Girardelli lo ha portato a dire. La fortuna ha avuto un ruolo importante in questo quinto sigillo. Certo, ma questo è normale. Lui è tanto buono a un livello più alto che quasi tutti gli altri, perché vincere anche Super C quest'anno è una cosa incredibile. Non c'è un altro atleta negli ultimi cinque anni che ha un livello come lui. Anche quando lui non arriva alla sua forma come ora di 100%, riesce a diventare secondo, terzo. Vinci ogni tanto, questo basta facilmente. Ho detto in apertura che Mark Girardelli è un uomo di parola. Quanto è importante la parola nello sport e nei duelli tra i grandi campioni? Si può vincere una gara con la parola giusta, al momento giusto, magari nella conferenza stampa il giorno prima della gara e insinuare il dubbio nella mente del tuo avversario? La parola almeno, ma mi ricorda una situazione nel 1991 mondiale a Salbach. Prima prova, prima prova, ho fatto miglior tempo avanti di Alberto, solo un decimo avanti. Prima della seconda prova eravamo tutti soli, solo noi due, in una tendenza alla partenza. Io ho sentito che lui si sente scomodo quando io sono vicino a lui. Lui è sparito, è uscito dal tendino, io l'ho sentito e seguivo Alberto. Un paio di minuti, ho parlato un po' con lui, poi lui prova di scappare da nuovo e ho seguito. Poi la seconda prova è arrivata abbastanza presto, ma questa gara ha perso, è diventato quarto. Un quarto posto per Tomba è un disastro. Io ho vinto la gara alla fine, ma lì ho sentito che anche un Alberto Tomba può diventare nervoso, anche senza parole, solo con la presenza. La presenza, il peso della personalità è qualcosa che spesso risulta ingombrante e vincente. A proposito di parole, in settimana se ne sono dette tante, tantissime, a proposito di Linz e Yvonne. Sì, la Linz è sicuramente la migliore di tutti da tanti anni e forse la Lewis Hamilton ha fatto un po' una situazione debole di lui, che si è fatta male, ha perso la concentrazione, ma questa è anche una cosa che non prova. Da dieci anni vince le gare, più che dieci anni. Veramente era un po' sfortunato a Andorra l'altra settimana e secondo me la decisione è assolutamente giusto, che non continua la stagione e lei ha ancora la capacità di vincere l'anno prossimo. Di tornare ancora più forte. Sì, secondo me, assolutamente. Almeno apro la chance per la Lara per vincere la Coppa sua. Era uguale, forte quest'anno e sono molto felice che la Lara vincerà. Spero, la Coppa grande. Questa è una bella cosa. Tutto è ancora da decidere, tutto è ancora da fare, bisogna fare gli scongiuri fino all'ultimo. Prima di parlare di quella Coppa, dall'alto della tua esperienza, tu hai detto che è giusto che l'Insevon si sia fermata, ma dall'alto della tua esperienza, questa ragazza che ha corso il Super G e una mancia di slalom con una frattura, cioè è follia. È veramente qualcosa di incredibile. Forse a questo momento non si sapeva ancora precisamente cosa è il male del ginocchio. Anche un dottore non riesce ad analizzare subito un incidente, una frattura, ma secondo me l'unica soluzione per lei è finire la stagione per guarire il ginocchio, perché quando lei continua ancora due settimane, può essere una frattura che non guarisce più. L'Insevon è una ragazza, una grandissima campionessa, è anche però una ragazza che non sa vivere senza avere le luci della ribalta. Prima tu parlavi, scherzavi su Hamilton e nella riprova. Non rischia di essere un limite poi per la sua vita, il fatto di dover sentirsi sempre sotto le luci della ribalta protagonista? No, secondo me lei è sicuramente l'unico personaggio nel Coppa del Mondo che è riconosciuto nel tutto nel mondo. Non solo perché è tanto buono nelle gare, anche come si comporta fuori dalle gare. Due giorni fa ho sentito un'intervista di lei, un corto nel radio in Austria perché tante gente hanno fatto commenti nel Facebook che fa solo una show per l'incidente e si voleva correggere che è veramente una frattura giusta. lei parlava un tedesco meglio che molti svizzere e austriachi e questo è un personaggio perché non è solo sulla pista, anche fuori della pista, forse il parto fuori della pista è ancora più importante. Per chiudere, lei ha corso con una frattura, una cosa veramente pazzesca, ma qui di fronte a me c'è qualcuno che con i legamenti rotti quante gare ha vinto? Sì, avevo un problema simile tanti anni fa, ma era un altro tempo. Però la modestia, ha vinto la Coppa del Mondo con i legamenti del ginocchio rotti. Allora, la prossima Coppa del Mondo dicevi che mi auguro possa andare fra le mani di Lara Gutt. È un'altra campionessa, quattro anni fa, ricordo quando si chiacchierava, eri già di questa opinione. Lara arriverà lì. Però tra essere una promessa e mantenere queste promesse c'è una bella differenza. C'è tanto lavoro. Sì, per ognuno è tanto lavoro. Anche per la Linze, penso che molta gente non la conoscono più quando si chiamava Linze Kildow, quando iniziava la sua carriera, prima di cambiare il nome a Von, quando si è sposato. E anche in questi periodi la Linze doveva combattere i rivali molto forti non ha funzionato tanto bene all'inizio. Anche la Lara ha fatto un start molto veloce, ha vinto parecchie gare. È giovanissimo. Dopo aveva un-dui anni che era un po' problematico. Secondo me è anche importante di sentire durante la carriera i tempi bassi per vedere dove è la terra. Questo è molto, molto importante. Molti atleti che avevano molto successo non hanno mai realizzato dove è la terra, dove sono le gente normale. E questa non è l'attitudine giusta. Secondo me, io conosco la Lara molto bene, una simpaticissima ragazza, una donna, devo dire. È molto intelligente anche. Secondo me, le due o tre stagioni che non andavano tanto bene prima hanno causato che va a vincere la Coppa quest'anno. Spero. Lo speriamo sempre, ovviamente. Però questa è la riprova che i campioni, le persone intelligenti sanno carpire anche, anzi soprattutto nei momenti negativi poi le cose giuste per diventare ancora più forti. E un parto della carriera, naturalmente. Il duello Von Gut si è interrotto purtroppo per un infortunio per l'imprevedibile. Però l'infortunio, lo sappiamo, fa parte del gioco. I duelli in Coppa del Mondo quest'anno però spesso sono mancati per via di una programmazione, di un calendario, di uno sport, di una federazione che fatica forse a rinnovarsi, a capire che bisogna cambiare qualche cosa. Penso a gare fatte a 400, 500, 600 metri e l'altezza, sappiamo la neve, lo abbiamo visto nelle ultime stagioni, fatica ad arrivare adesso a quell'altezza. Ma sai, questo inverno è veramente un po' particolare. L'anno più caldo da centinaia. Secondo me, quando consideriamo le condizioni neve di questo inverno, le gare erano molto, molto buone. Già 20 anni fa avevamo una stagione dove non c'era un Kitzbühel, non c'era un Wengen, erano a Vesonà o a Patklein-Kirchheim. Questo è normale. Noi siamo un sport fuori e mi ricordo anche tre anni. Ora le gente dicono ma la caldezza ora, la deserta di Libia arriva qui in Europa e tre anni fa la mia moglie mi ha forzato di comprare una fresa alla casa mia, a Reepstein, perché ha nevicato tre mesi consecutive. Perché io ero sempre fuori in inverno, lei doveva pulire il parcheggio e la casa. C'era un grosso problema per neve, troppo di neve e va a venire da nuovo. Noi viviamo 70 anni e il periodo del glaziale è molto più lungo. Penso che i ghiacciai arrivano un giorno, ma noi non siamo più qui. Serafico, Marco Girardelli, basta avere pazienza. È il ciclo delle stagioni. Ci sono stagioni così e stagioni diverse. Non è un colpo della FIS e degli organizzatori. È la situazione, ma fino ad ora hanno lavorato buonissimo. Tutte le gare erano interessantissime. I televisivi, la copertura televisiva era meglio che anni prima. Tra le gare interessanti ci sono i city event, che sono qualcosa che il grande pubblico sta imparando ad apprezzare. D'altra parte, avere i grandi campioni lì a pochi metri da i grattacieli. Questa è un'immagine di un city event a Monaco. Questo potrebbe essere il futuro? Non è il futuro, ma dovrebbe essere un parto importante della stagione, della Coppa del Mondo. Perché, come tu hai detto, per la gente, a Kitzbühel, Wengen, Cortina, Valgardena, gli atleti sono abbastanza lontani. Un pubblico normale non riesce mai a incontrare un Svindal, un Jansrud, un Hirscher o tutti gli altri. Perché è sempre come in Formula 1, non le vedi mai. Le vedi più o meno in televisione, ma mai in persona. Durante un city event come quello, per tutti che arrivano è possibile anche parlare, vedere, i campioni. Vicino, non è così stressato come la Coppa del Mondo giusta, è più aperto, più leggero. E secondo me anche si deve portare un sport alle gente. Perché si sa che sciare sempre nelle montagne non ognuno ha il tempo e anche i soldi di arrivare da Parigi, di Londra, a Madonna di Campiglio, che dura un giorno o due per arrivare, solo per vedere una gara. Quindi il messaggio è chiaro, fa bene la FIS, fa bene lo SCI, non fermarsi, rinnovarsi, andare oltre, che è un po' quello che ha fatto Marco Girardelli. secondo me anche il sistema e il modo di parallel sembra molto interessante. Come Alta Badia, il gigante parallelo era veramente interessante, si può migliorare ancora il modo, il terreno forse e tutto la show intorno della gara, ma secondo me le gente sono veramente interessate di avere anche un modo un po' diverso del Coppa del Mondo normale. Certo, spettacolarizzare e fare qualcosa di diverso. Dicevo, mai fermarsi e rinnovarsi come ha fatto fin qui Marco Girardelli. L'ho fatto anche cosa c'entra al vino? Voi sapete che c'è un ottimo Syrah che si chiama Marco Girardelli? Sì, un vino di Bulgaria, esatto, il Domaine Boyard è una dita in Bulgaria che produce più che 7 milioni bottilli all'anno ma qui da noi in Svizzera, Austria, Italia, Germania non è molto riconosciuto. Il mercato è più Inglaterra, America e Russia. Dietro questo vino questo Syrah a Marco Girardelli c'è semplicemente una riuscita operazione commerciale o c'è una passione di Marco per il vino rosso? Secondo me le gente che non hanno una passione per vino non sanno vivere. Ok, allora c'è molto molto di più. Marco Girardelli dopo essere stato un grande campione è diventato un imprenditore di successo. Non a caso quel vino che abbiamo appena citato è un vino bulgaro. Bansko è diventata una una meta prediletta per Marco Girardelli che più di altri ha creduto in quella località in Bulgaria. Da dieci anni sono consulente della Federazione Bulgaria e in tempo ho fatto anche altri business giù e per esempio tutto il Coppa del Mondo tutta la Coppa del Mondo uomini e donne da tre o quattro anni e aree della dita di Bulgaria le trasporta quando la Coppa del Mondo da Zurigo arriva a Levy in Finlandia o a Sochi o in America sono aeroplani di Bulgaria questo ho fatto io per esempio perché è molto meno caro che prendere le voli linea altri voli di linea questa è una cosa piccola altrimenti sono consulente del ministerio turismo giù in Bulgaria sono un paio di piccole cose che faccio giù sto pensando su capito perché tua moglie si lamentava che non eri mai a casa ne hai da fare ma la mia moglie dice anche che la cosa che faccio io non è un lavoro perché io vado sciare con gente interessante vivo sempre in belli alberghi nei posti migliori del mondo e mangio nel ristorante migliore e poi questo non può essere un lavoro è un gran piacere però al tempo stesso Marco lo sa benissimo che è un lavoro allora imprenditore di successo abbiamo parlato del vino ci ha detto di quanto è riuscito a fare in Bulgaria e a Bansco poi è un imprenditore di successo anche perché c'è una linea di abbigliamento che è nata per bambini poi è diventata per adulti perché i figli crescono geniale anche Marco Girardelli perché ho scoperto che diciamolo le persone sono sempre più difficili non va bene mai niente gli puoi offrire 100 giacche che ti diranno no queste 100 non mi piacciono ne vorrei una diversa allora andate sul sito di Marco Girardelli della sua linea di abbigliamento e vi disegnate la giacca come volete voi chi è che ha avuto questa idea bellissimo il mio compagno Martin lui è ancora in gamba io sono un po' fuori lui è ancora in gamba perché abbiamo fissato il lavoro più per ski club e scuole di sci perché in negozi abbiamo perso i due più grossi clienti nostri in Austria in Italia e poi abbiamo perso il 50% del mercato due anni fa e poi abbiamo deciso di andare in una direzione un po' diverso ski club e scuole di sci e andiamo a vedere come funziona ma almeno è un piccolo parto del mio business vedete anche in questo caso reinventarsi e mai fermarsi tanti successi nella vita nella famiglia da atleta però c'è almeno una cosa che è rimasta qui a Marco Girardelli un rammarico insomma un obiettivo che si era posto e non è mai riuscito a raggiungere io credo di sì e a cinque cerchi come? e a cinque cerchi ah sì sì mi ricordo ho vinto due argenti albervilli in 92 una volta Alberto Tomba era più veloce in gigante una volta Chieti Lamott in super gigante ma come mai ci sono a casa nostra Didier Cush non c'è mai riuscito quindi secondo me questa non è una cosa veramente difficile per me sai perdere una gara contro Tomba o Amot nella forma migliore questo non è una cosa male questa è una cosa buona perché dietro me erano 500 altri c'è sempre il lato positivo però allora io ho portato Mark Girardelli sui giochi olimpici però mi sa che parlando di obiettivi non raggiunti Mark stava pensando a qualche cosa altra allora la cosa migliore per me la cosa più importante per me era sempre di essere competitivo in tutte le cinque discipline da slalom fino alla libera io ero praticamente ero un slalomista come Tomba o Hirscher e alla fine il mio obiettivo più grosso era sempre vincere una gara della libera per fortuna riuscivo a vincere due volte la Coppa della Libra in 89 e in 94 15 o 20 podi 3 vittorie a Kitzbühel e Wengen le discesi più importanti così questo mi conta quasi di più che un'ora alle Olimpiadi e poi per farti stare ancora più tranquillo Marcel Hirscher sta per arrivare a cinque coppe del mondo come Marc Girardelli ma anche Marcel Hirscher non ha mai vinto un oro olimpico quindi siete pari e tranquilli siamo noi che diciamo grazie a Marc Girardelli per essere tornato a Spornostop non chiedo neanche tornerai perché è in apertura si è detto tornerò sicuramente quindi non ne siamo più che felici appuntamento a una prossima puntata di Spornostop non vi diciamo ancora quando così c'è un po' di thriller grazie a Marc Girardelli e